Gialla e nera, i colori di gara per Renault, una scheda tecnica che concentra il meglio delle competenze di Renault Sport con scocca in carbonio, peso appena superiore a 1000 kg e oltre 500 cavalli. Con queste caratteristiche la nuova iperauto della Losanga supera i 300 orari. Dall'anno prossimo la nuova RS01 sarà una delle star delle World Series by Renault all'interno del nuovissimo campionato Renault Sport Trophy, trampolino di lancio verso i campionati professionali GT e Resistenza. Un'auto da corsa che fa spettacolo dunque ma anche uno spirito GT per sensazioni di guida tanto forti che non saranno adatte a tutti. In pista, il suo regno, la RS01 potrà mostrare tutti i muscoli e sottolineare l'equilibrio tra potenza e assetto per mantenere le traiettorie in qualunque curva. Di certo se ne parlerà ancora.